Una settimana più tranquilla del solito perché abbiamo un po' di tempo per riposare, per lavorare e cercare di migliorare le cose che ci mancano un po' in partita. Dal tuo punto di vista un grandissimo campionato finora, primo nella classifica dei muri, un fondamentale che sta accompagnando bene tutta la squadra. Te l'aspettavi di fare una stagione così? È una delle cose che faccio migliore. Non so se me lo aspettavo o no, ma cerco di farlo bene. Sono contento che sta andando bene. E poi dopo questa mini sosta dovuta alle finali di Coppa Italia si ritorna in campo una sfida importante qui alla GSMM Forum davanti ai nostri tifosi perché arriva Trento. Sì, abbiamo una bella opportunità ancora di giocare contro Trento perché abbiamo fatto due partite che sono state veramente difficili e quindi cercheremo ancora un'altra volta di vedere i punti deboli di loro che non ci sono tanti. Quindi sarà difficile ancora ma spero che riusciamo a farlo meglio e metterli in difficoltà.